In Kosovo sono state obbligate a recedere le truppe della K-4, la forza di interposizione della Nato. I militari che cercavano di raggiungere i posti di frontiera tra il nord del Kosovo e la Serbia si sono trovati la strada bloccata dai nazionalisti serbi che hanno costruito anche delle barricate. Un affronto per la K-4. Non ci sarà una seconda volta, se verremo di nuovo bloccati dovrò usare la forza e tutti capiranno cosa significa. I soldati dovevano raggiungere i valichi di frontiera di Jarin e Bregnac dove alcuni giorni fa erano scoppiati pesanti scontri in cui aveva perso la vita un poliziotto kosovaro. La tensione esplosa dopo che Pristin aveva dispiegato al confine le proprie forze di polizia per imporre l'embargo contro le merci provenienti dalla Serbia.